Una nuova puntata di Fantasticando, tantissimi ospiti e avremo anche tra un po' un ospite straordinario, il nostro Francesco Benigno che dovrebbe arrivare a momenti. Alfonso che voleva dire che mi porti a mangiare dove? Se ti volevo portare a mangiare. Noi ci rivolgiamo al grande pubblico. Il nostro Domenico Pugliese. Provide il spettacolo. Ci troviamo benissimo, grazie. Come ti trovi qua in questo studio di Fantasticando? So già che conoscevi già la location. Abbiamo bisogno di un air stylist. Si chiama Rico Fisit. Che Dio mi benedica. Grazie.